No, ma ti sembra, ti sembra! Luciana, è un dettaglio, mancano i pesci per l'acquario, il resto è a posto. Ma che fine hanno fatto i pesci che avevamo di là, scusami? E sono rimasti perché hanno l'esclusiva. Non possiamo convincerli. Ci ho provato, gli ho parlato a lungo, ma loro muti. È una battuta! È una battuta! No, veramente! Ma per strammatizzare, è una battuta! Che tempo che fa! In Prima TV, da domenica 15 ottobre, sul 9.